. Cosa hai fatto sul braccio sinistro? Belen pubblica una foto su Instagram e in tanti notano uno strano particolare foto, video. Per Belen tatuaggio cancellato, ecco perché lo ha fatto. C'è chi si è allarmato sul social chiedendo a Belen Rodriguez cosa hai sul braccio sinistro? Chi pensava fossero lividi quelle strane macchie e si stava già preoccupando per la showgirl. . Non è una novità, ma evidentemente alcuni utenti che seguono Belen sui social si sono accorti soltanto adesso cos'è successo al braccio sinistro dell'Argentina. . La conduttrice di Tosicu e Vales, infatti, è apparsa un po' diversa nelle ultime due foto pubblicate sul suo profilo Instagram e ha stuzzicato la curiosità dei fan. . Nella prima abbraccia il padre e gli fa tanti auguri di buon compleanno, nella seconda si concede un pezzo di torta al ristorante. . Ma cosa c'è di così strano in questi scatti? Sul braccio sinistro di Belen Rodriguez non appare più il tatuaggio fatto per Stefano Dei Martino, o meglio resta soltanto un alone poiché da diverso tempo la 33enne si sta sottoponendo a laser per cancellarlo definitivamente. . . Intervistata da Fanpage qualche settimana fa, nel rispondere alle curiosità in merito alla sua vita privata cercate su Google, non si è sottratta alla domanda sul vistoso tatuaggio quasi del tutto scomparso. . Non mi piaceva, ma non l'ho cancellato per il significato. . Ho fatto una roba che ha, l'amore. Ha ammesso ridendo la Rodriguez. . E lo stesso ha fatto il ballerino di Amici che mesi fa ha deciso di rimuovere la stessa incisione fatta con e per l'ex moglie. . Ora che entrambi hanno trovato un altro compagno e sembrano sereni e felici, speriamo che non compiano gli stessi errori del passato e… . .